Siamo nel foyer del Teatro Comunale Traeta, dove stasera si apre la conferenza stampa per la prossima stagione teatrale. Siamo con l'assessore al marketing, il dottor Mangini. Allora, assessore, una nuova stagione teatrale qui al Traeta. Sì, oggi presentiamo la stagione teatrale che avrà inizio a metà novembre con due spettacoli già noti, perché fanno parte del progetto B-Talk. Sono il concerto in piano poetri di Sergio Camariere e Harry De Luca, un recital sulla sua esperienza con una nave di Emergency. E poi parte la stagione vera e propria, con dicembre abbastanza ricco, con la prima nazionale del nuovo spettacolo della Rima Band, molti spettacoli di compagnie pugliesi e molti spettacoli anche di compagnie nazionali, per un totale di 13 spettacoli, di cui 10 in abbonamento. E come sempre la stagione del Traeta, una delle sei stagioni, questa di Prose e Musica, la classica stagione, impreziosisce l'offerta culturale della città e fa, soprattutto d'inverno, del Teatro Traeta, un grande attrattore culturale capace poi di avere un indotto, proprio perché gli spettacoli sono sempre nel weekend, sabato, in primis e domenica, capaci di avere un indotto anche su, insomma, i locali commerciali, i ristoranti, i B&B, perché qualcuno viene anche da fuori a volte, quindi diciamo, è un investimento che valorizza il teatro, promuove la cultura, soprattutto il linguaggio teatrale e diffonde, diciamo, una qualità della vita culturale anche al di là del teatro stesso. Grazie.